Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Partiamo subito con i titoli degli argomenti che affronteremo all'interno di questa puntata. Assalto alla CGL di Roma. In aula sarà discussa una mozione per lo scioglimento delle forze estremiste. Valentino Schuhs salvaguardare i livelli occupazionali. Riorganizzazione delle ASL respinta a una mozione di Fratelli d'Italia. Rincaro gas da autotrazione. La discussione sui fatti di Roma dello scorso 9 ottobre con l'assalto alla sede nazionale della CGL ad opera di appartenenti a movimenti neofascisti e no green pass è arrivata anche a Palazzo del Pegaso. Alcuni giorni fa era stato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ad esprimere attraverso una nota stampa vicinanza e solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della CGL. Mazzeo aveva poi sottolineato come non sia più rinviabile il momento di impedire che forze neofasciste inquinino con le loro violenze la nostra convivenza democratica. Il tema è al centro di una mozione che sarà discussa prossimamente in aula. Io spero che il Consiglio regionale si possa discutere. Si discute solo ad una condizione per l'ordine dei lavori, che ci sia l'unanimità di tutte le forze politiche. Gli atti che sono avvenuti in questi giorni, gli atti squadristi da parte dei Novax e delle forze neofasciste che ci sono in questo Paese sono stati qualcosa di incredibile, impensabile, gravissimo e io credo che il Governo e il Parlamento debbano agire rapidamente e sciogliere forze di questo tipo, estremiste e neofasciste. Questa è la strada da percorrere velocemente. Io mi auguro che anche il Consiglio regionale della Toscana, tutto compatto, mandi questo messaggio al Governo e al Parlamento. Come Partito Democratico abbiamo presentato anche una mozione che speriamo trovi anche una vasta convergenza, che condanna i fatti inquietanti, veramente preoccupanti che sono avvenuti a Roma sabato scorso. Bene hanno fatto i sindacati a indire per il prossimo sabato invece una manifestazione per riaffermare la democrazia e per riaffermare la validità della nostra Costituzione. Noi in questa mozione chiediamo al Governo di valutare lo scioglimento di tutte le forze che si rifanno all'apologia del fascismo. Questo non perché vogliamo discriminare qualcuno ma perché vogliamo che sia riaffermata la nostra Costituzione che appunto prevede che il fascismo non può far parte, cioè della nostra legislazione, della nostra Costituzione non può far parte insomma di quello che è il nostro vivercivile. Tutto quello che si rifà al fascismo ovviamente non può essere parte della nostra organizzazione democratica. Intanto ferma, condanna nei confronti tutti coloro che vanno in giro e commettono violenza. Purtroppo non è la prima volta che in Italia si verifica, questa volta le violenze sono state attribuite a esponenti di forza nuova ma a noi è successo più di una volta di subire le stesse violenze anche durante le nostre manifestazioni da parte dei centri sociali. Quindi è bene che la politica si renda conto che quando ci sono certe azioni, indipendentemente da chi le commette si debba comunque porre rimedio e trovare un rimedio. È arrivata una mozione anche da noi in aula qui in Consiglio regionale proporremo degli emendamenti prima di votarla ma pensiamo che si debba fare un ragionamento complessivo e molto ampio perché la violenza non ha colore politico, cioè ce l'ha ma ce l'ha spesso in più sfaccettature, in più colore a seconda delle situazioni. Quindi è bene quando si condanna condannare tutto e tutti quanti. Chiaro noi vogliamo esprimere la nostra solidarietà alla CGL perché quello che è avvenuto è assolutamente inaccettabile a fronte di tante persone che invece erano a manifestare in maniera pacifica e legittima e quelle invece vanno difese e tutelate perché il diritto di manifestare deve essere mantenuto sempre, in maniera però pacifica. La Lega anticipa la capogruppo Montemagni e presenterà degli emendamenti su questo tema. Noi chiederemo proprio di porre anche una condanna e di sciogliere i centri sociali perché non è che fanno meno danni quando ci sono le manifestazioni rispetto a quello che abbiamo visto durante la CGL quindi la valutiamo come un'opportunità per poter dialogare e per poter mettere fine in toto a tutto quello che vediamo, alle vetrine spaccate, ai disastri fatti nelle sedi, proprio da parte di tutti quanti perché visto che c'è un'occasione e si apre uno spiraglio da parte della maggioranza crediamo che sia giusto trovare una soluzione che coinvolga tutte le casistiche che sono successe negli anni. Allora intanto approfitto del tema per esprimere, l'abbiamo già fatto ma lo rifacciamo sempre volentieri, credo la più assoluta solidarietà alla CGL di Roma ma anche a tutte quelle forze sindacali e sociali che anche in queste ore ricevono minacce da movimenti di matrice differente ma accomunati dall'idiozia evidentemente. Sulla mozione a noi va benissimo discuterla, credo sia un tema da sottoporre assolutamente alla politica. È un po' surreale il fatto che la politica, e non credo sia nemmeno legittimo più di tanto, che la politica disponga lo scioglimento di una forza politica, cioè ci sono strutture, istituzioni apposite che dovranno decidere questo e mi auguro, perché le violenze vanno sempre condannate e combattute, mi auguro che chi è competente agisca in questa direzione e provveda a sciogliere tutte quelle forze politiche, Forza Nuova se ha commesso dei reati come quelli di Roma della settimana scorsa senza comprare dubbio, ma tutte quelle forze politiche di destra, di sinistra, di centro, di sopra o di sotto, che fanno della sopraffazione, della violenza, dell'impedimento fisico all'avversario di esprimere la propria opinione, la propria bandiera, la propria azione politica. Chi si pone fuori dalla legalità deve essere sciolto, lo devono fare gli organismi competenti, la politica lo può segnalare, bene se oggi segnala lo scioglimento di Forza Nuova, altrettanto vigore, altrettanto deve essere netta la condanna, quando a compiere azioni simili a quelle sono altri movimenti. Quanto è successo a Roma è ulteriormente un fatto ancora più grave, ma questa spirale di violenza, che poi si determina in alcune piazze italiane, indipendentemente da dove si verifica e contro chi si verifica, sempre corretta la solidarietà di chi subisce un'aggressione, ma le aggressioni a mio avviso sono fisiche, sono molte volte anche verbali e poi queste cose possono congiungersi, quindi il clima di odio, il clima verbale, l'utilizzo di queste terminologie molte volte innesca e determina a sua volta delle reazioni da parte di gruppi estremisti, quindi la politica, le istituzioni, chiunque le rappresenta non può avere due facce, due volte, un giorno sì, un giorno no, sempre vanno condannati, ma la condanna deve iniziare dalle aggressioni verbali per poi condannare ovviamente quelli che sono atteggiamenti anche fisici o violenti che non sono concepibili dalla nostra Costituzione. E proprio sul tema dell'odio e della violenza verbale, il gruppo Italia Viva in Consiglio regionale ha presentato una mozione, approvata dall'Aula, per condannare l'episodio delle parole offensive e intimidatorie indirizzate al senatore Matteo Renzi durante il comizio elettorale organizzato dai sostenitori di Giuseppe Conte a Montevarchi, prendendo inoltre le distanze dal comportamento di coloro che hanno udito e che non si sono sul momento dissociati rispetto a quanto stava accadendo. Sull'argomento relativo a quanto accaduto a Roma e sulla futura mozione da discutere in Consiglio regionale, sono intervenuti anche Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Intanto vediamo che tipo di mozione arriverà ed esprimiamo solidarietà ai fatti gravissimi, ai fatti intimidatori che sono avvenuti al segretario di un sindacato importante, e come esprimiamo solidarietà sempre a tutti gli esponenti politici, giornalisti, magistrati, membri della società civile che quotidianamente ricevono intimidazioni. Speriamo che il Governo e il Parlamento legiferi il più presto possibile su tutti gli haters che ci sono, quei fantastici leoni da tastiera che sui social aggrediscono, infamano quotidianamente tutti. Vediamo che tipo di mozione arriverà. Noi però non abbiamo dubbi, sostenendo la storia che ci ha sempre contraddistinto, a condannare ogni tipo di violenza come per esempio l'aggressione alla sede del sindacato che è successa a Roma, però d'altro canto non abbiamo nemmeno dubbi a dire che la storia di questo Paese non può essere scritta soltanto da una mano, che in questo Paese sono avvenuti fatti gravissimi e mai condannati, che il Presidente Berlusconi nell'arco degli anni è stato attaccato, infamato, addirittura gli è stata gettata una statuetta addosso mandandola all'ospedale e gli attestati di solidarietà dalle farze politiche non sono sempre arrivati. Ecco perché noi fermi nella nostra storia diamo solidarietà alle persone ma anche vogliamo che sia fatta chiarezza in questo Paese su quello che è successo. Ho presentato personalmente la sera stessa la mia solidarietà alla direzione provinciale di Pisa e per esteso quindi a tutta la CGL toscana e nazionale, la mia solidarietà per l'atto vergognoso di cui si sono trovati oggetto. E condanno questo due volte perché innanzitutto è stata colpita la sede di un sindacato e di qualunque opinione se ne abbia resta sempre comunque sia un simbolo dei lavoratori. Quindi istituzionalmente è stato un gesto squadrista come ha detto lo stesso segretario Landini vergognoso e molto pericoloso su cui dobbiamo accendere istituzionalmente i riflettori. Il secondo aspetto è perché questi fascinorosi di chiara matrice di destra cosa evidente a tutti tranne ai diretti interessati, ai vertici dei loro partiti hanno in questo modo macchiato una manifestazione che era fatta di persone che condividevano un'idea magari non condivisa da me o da altre persone ma comunque si hanno manifestato pacificamente lungo le strade cosa che in una democrazia come quella italiana è sempre permesso. Quindi il disvalore che è stato presentato in questo gesto è stato doppio quindi è bene che le istituzioni e soprattutto gli organi inquirenti approfondiscano cos'è accaduto e condannino fermamente tutti i responsabili perché non diventino poi seme di altri eventi di questo tipo. Stoppa la violenza e tutti noi dobbiamo farci carico di portare distensione anche nel nostro operato e nel nostro modo di fare politica. Attivarsi e fare chiarezza sulla vicenda dell'incendio della Valentino Shoes Lab di Levane adottare inoltre ogni iniziativa possibile per una completa salvaguardia di tutti i livelli occupazionali e quanto chiede alla Giunta una mozione presentata dal consigliere della Lega Marco Casucci approvata in consiglio regionale. Ci ricordiamo tutti l'incendio del 2 aprile scorso sappiamo che probabilmente fu dovuto a un errore nello smaltimento delle polveri quello che occorre fare è trovare delle istituzioni per i lavoratori perché da quel giorno per numerosi di essi è iniziato un calvario di spostamenti noi chiediamo concretamente quali sono le intenzioni dell'azienda un piano di ricostruzione, tutto taci sappiamo che il 18 di ottobre ci sarà un incontro con i sindacati ed è bene che anche la regione toscana si affianchi alle forze sindacali per fare chiarezza e per svolgere tutta quella attività necessaria per la salvaguarda del pieno livello occupazionale. Sul fronte sanità l'aula ha respinto una mozione presentata da Gabriele Veneri consigliere regionale di Fratelli d'Italia che chiedeva la riorganizzazione dei servizi sanitari regionali e delle ASL toscane partendo dalla revisione delle tre maxi ASL. La mozione praticamente chiedeva che venisse rivisto il sistema sanitario toscano dalle tre ASL ritornare alle 13 USL e lo chiedeva in una maniera importante noi c'eravamo più che altro concentrati sul tema della ASL toscana sud-est Arezzo, Siena, Grosseto che è un'area che è veramente molto vasta e che per motivi di infrastrutture dal Giglio al Casentino è davvero complessa da gestire e quindi chiedevamo che in via sperimentale il processo di ritornare alle unità sanitarie locali partisse proprio da questa zona quindi dalla Toscana sud-est e perché se i risultati poi fossero stati positivi si poteva estendere a tutta la Toscana è agli occhi di tutti che da quando è stata fatta la riforma nel 2015, la famosa riforma Saccardi i problemi della sanità si sono amplificati e il Covid è stato solamente l'epilogo ma i problemi della sanità toscana sono agli occhi di tutti L'aumento del costo del gas da autotrazione è al centro della mozione presentata dal PD in Consiglio regionale di cui è prima firmataria la Presidente della Commissione Sviluppo Economico Ilaria Bugetti l'atto ha visto il voto unanime del Consiglio il 18 di ottobre ci sarà un'asta internazionale la sensibilità con cui l'Europa e il nostro governo si porrà in quell'occasione potrà sicuramente essere determinante si sa che una parola di Putin può far oscillare di 20-30 punti il prezzo del gasolio a ribasso o a rialzo ecco, da noi arriva un grido forte anche perché la riflessione che facevamo che è importantissima non solo per le famiglie ma anche per la ripartenza, per le imprese l'aumento del costo del gas rischia di vanificare tutti i fondi strutturali e i soldi del PNRR che faticosamente stiamo mettendo a disposizione per la ripartenza e quindi questo sarebbe veramente un aggravio gravissimo ci arriva il grido d'allarme dalle associazioni di categoria e noi riteniamo giusto e opportuno prendere una posizione forte Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista a cronache e commenti torna la prossima settimana Grazie a tutti Grazie a tutti